Buonasera a tutti, grazie di essere qui ad ascoltarci. Io sono Luigi Proserpio e penso di fare un mestiere privilegiato. Nella mia università sono l'architetto dell'apprendimento, sono quello che ha la possibilità di progettare spazi, tecnologie, metodi didattici, eccetera. Ho qualche foto in giro, da qualche parte credo che posso fare vedere. Vi racconto che tipo di approccio stiamo cercando di creare nella nostra università, il progetto si chiama The New U, la nuova university, e parte da una sfida che abbiamo, che è questa qui, è un nuovo campus, un pezzo di nuovo campus che stiamo costruendo di fronte all'università tradizionale che sta in via Bucconi, in via Sarfatti e in via Roentgen, credo. Quindi abbiamo una nuova cittadella da costruire che raddoppia gli spazi e abbiamo di fronte una serie di sfide strutturali, credo, da risolvere. Quello di cui io vi vorrei parlare questa sera in dieci minuti. L'idea è che vi vorrei raccontare come stiamo pensando di cambiare l'approccio strutturale al teaching nella nostra università. Stiamo costruendo delle, tra virgolette, gabbie cognitive per spingere i nostri docenti a fare delle cose diverse da quelle che fanno rispetto a ciò che in qualche modo diceva Bolelli all'inizio dello speech. Noi abbiamo due tipi di persone all'interno dell'università, forse così è un po' estrema la comparazione, però abbiamo i docenti che sono quelli di qua, che sono cresciuti come me con il Commodore 64, con il Walkman, con tutta una serie di tecnologie che non ci sono più e abbiamo gli studenti che hanno raggruppato tutto quello che fanno all'interno di una tecnologia molto interessante, molto connessa, eccetera, eccetera. Il problema è che questi due mondi sono due mondi abbastanza distinti, sono due mondi che non comunicano sempre benissimo. Quando i nostri docenti si trovano di fronte a studenti fatti così, ogni tanto si chiedono per quale motivo i nostri studenti di fronte abbiano il computer sempre aperto, non abbiano gli occhi sul docente, non abbiano gli occhi sulla lavagna, non abbiano le dita sul foglio, le dita sulla penna, le dita ce le hanno sulla tastiera, di solito prendono appunti, non sono distratti, però il fatto che nelle aule ci sia più o meno di tutto in termini di tecnologia disponibile lascia sempre un po' perplesso il docente dal punto di vista di quello che uno studente stia facendo, perché è abituato a controllarlo in modo diverso. Questo è un clash culturale che Bolleghi raccontava prima con la differenza tra i cervelli orizzontali che sono loro e i cervelli verticali che siamo noi, noi andiamo nel dettaglio, loro preferiscono andare di connessione. Però dobbiamo tenere in conto che questa è la realtà delle persone che abbiamo di fronte, chiaramente questa realtà vale per le persone dell'undergraduate, il triennio vale per il graduate, vale per alcuni master, non vale per l'executive education, cioè i professional che arrivano nella nostra business school. Però qui dentro, più che decidere di introdurre le tecnologie, quello che stiamo cercando di fare è capire che tipo di studente ci piacerebbe avere, ok? Abbiamo deciso che lo studente che ci piacerebbe avere è uno studente fatto così. Non vorremmo dimenticarci della capacità di leggere teorie e di approfondire, e quindi l'università nostra è un'università abbastanza tradizionale come teaching, questo è un punto su cui non vorremmo soprassedere, cioè non vogliamo un modello americano in cui lo studente tocca tutto con mano ma astrae molto poco, ok? Quindi noi siamo astrattori e astrattori, se si può dire astrattori in italiano, vorremmo rimanere. Però ci sono alcuni pezzi che stiamo cercando di aggiungere sono i pezzi delle soft skills, quindi capacità di gestire un team, capacità di lavorare con gli altri, capacità di avere fiducia, capacità di presentare, capacità di comandare, se volete, capacità di negoziare. E poi c'è la parte del know-how, quindi come trasferire le conoscenze teoriche che stiamo in qualche modo trasferendo loro in qualche cosa che le aziende vedano da subito, le aziende sono la nostra popolazione di riferimento a cui poi mandiamo gli studenti per lavorare, vorremmo che questi studenti avessero anche delle esperienze pratiche superiori rispetto a quelle che abbiamo adesso. Il problema è che noi non ce li abbiamo i ciclotroni, non possiamo fare i videogiochi, non possiamo insegnare la tecnologia, noi siamo una facoltà solo di economia, quindi non insegniamo la tecnologia, insegniamo con la tecnologia, usiamo la tecnologia per simulare, usiamo la tecnologia per fare tutta una serie di cose. Quindi quello che stiamo cercando di fare è passare dall'università strutturalmente fatta così, le aule ad anfiteatro, il docente che dice che la conoscenza sta lì, su di lui e su quello che c'è dietro, la lavagna, a qualche cosa che integri però, non sostituisca, perché altrimenti non daremo più una conoscenza teorica sofisticata, qualche cosa in più, cioè stiamo cercando di creare i nostri ciclotroni, i nostri laboratori che sono fatti così, sono aule piatte, riconfigurabili, si muovono le sedie, in qualcuna si muovono i banchi, in altre non si muovono per ragioni di elettricità, ci sono tanti schermi, si possono proiettare tante cose, c'è una bella rete, ci sono le prese, ci sono tante lavagne laterali, ci sono spazi per la discussione, ci sono software a disposizione delle persone quando entrano nell'aula, eccetera, eccetera. Quello che noi otteniamo è un modello misto in cui ci sono corsi in cui insegniamo frontalmente per insegnare alle persone la validità di una forte conoscenza di tipo strutturato, una forte conoscenza di tipo astratto, una forte conoscenza di tipo approfondito e teorico e poi abbiamo la voglia di fare interagire loro su temi più concreti, la costruzione di strategie per le aziende, la costruzione di policies per la politica, la costruzione di tutta una serie di cose. Questi sono i nostri laboratori. Questi nostri laboratori a volte funzionano, a volte non funzionano. Non funzionano per due motivi, quando non funzionano e poi vi dico cosa succede invece quando funzionano. Non funzionano perché l'introduzione di tecnologie sofisticate, vi racconto, faccio un esempio di un corso che stiamo facendo, il corso di matematica di base del nuovo corso di laurea in scienze politiche che abbiamo aperto quest'anno, è fatto così. C'è una discussione teorica sul tema politico, che cos'è il voto, che cos'è la rivoluzione X, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è una discussione di come si può modellizzare la primavera araba attraverso alcune teorie matematiche e quindi il docente di political science viene affiancato dal docente di matematica che durante la stessa lezione gli racconta come lo scenario decisionale possa essere modellato. Poi gli studenti aprono il computer, usano MatCard che sta in rete e simulano, scrivono un software, ok, vabbè, software mi sembra un po' eccessivo, però danno due o tre diciamo, scrivono due o tre equazioni per capire come il modello possa essere sottoposto a delle analisi di sensitività. Cosa succede se faccio questo? Cosa succede se faccio quello? Cosa succede se faccio quest'altro? Quindi stiamo cercando di mettere insieme la teoria sociale che ci interessa analizzare con i modelli che ci permettono di approfondire il lato quantificabile e poi facciamo provare lo studente all'interno della stessa lezione, mezz'ora, 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 queste cose, ok? Funziona se tutto funziona, cioè tanta più tecnologie introduciamo, tantomeno le aule sono affidabili, ok? Nonostante tutto sommato vadano bene, però il problema è che noi abbiamo una corte di professori, così come succede in tutto il mondo immagino, che è abituata ad andare da sola, ok? Perché la tecnologia che il docente è abituato a gestire è la lavagna, ok? Quindi tecnologia pennarello, tecnologia lavagna, se non si scarica il pennarello funziona tutto bene, ok? Tecnologia voce, se non si scarica la voce o se non si scarica il microfono, cosa che ci succede? Ecco, voglio dire, però tutto sommato è abbastanza affidabile, ok? Ci metto una distribuzione virtualizzata di software, ci metto un wifi che deve avere alcune caratteristiche, ci metto il fatto che i nostri studenti da quest'anno sono obbligati a portare i computer e quindi se vogliamo fargli fare degli esami online lo devono fare in aula, se devono utilizzare dei software di simulazione hanno il loro computer, eccetera, eccetera, però questa cosa non è tanto compatibile con le università come sono fatte in questo momento, cioè richiede una coevoluzione molto forte tra faculty, docenti e staff, chi si preoccupa di dare l'infrastruttura e questa cosa non è particolarmente compatibile con la dimensione economica delle università perché gli investimenti da fare sono tanti e quindi quello che stiamo cercando di fare è ridurre i gradi di libertà a disposizione del docente e di decidere quali sono i cinque software che vogliamo per tutti, su questo cercare di aumentare l'affidabilità, l'assistenza, eccetera, eccetera. Il secondo motivo di inaffidabilità è che lo studente è abituato a usare le tecnologie ma per giocare, quando deve usare le tecnologie per fare qualche cosa di più sofisticato, beh, scopriamo che il nostro studente è un utente di smartphone, ma non è un programmatore, il nostro studente sa come ci si connette a quello che volete all'esterno del mondo di un'aula, ma non sa intervenire sulla tecnologia, quindi imparare a programmare, imparare a fare il coding di software statistici, imparare a fare delle simulazioni, imparare a fare dei conti economici col computer, degli esercizi, non è così facile come sempre. Questi sono alcuni strumenti di controllo che diamo ai docenti per fare delle cose in aula, ma questa è la parte aula. La seconda parte, che due minuti finisco, giusto? Ce li ho ancora? È la parte virtuale, ok? Quindi stiamo cercando di abbattere i confini di queste nostre aule, aule meno chiuse, che per esempio sono aule miste, si chiamano aule blended, in cui gli studenti magari a casa studiano sui corsi a distanza che stiamo creando e poi arrivano in aula non per ascoltare il docente che racconta che cosa c'è sulla lavagna, ma per simulare, per giocare, per discutere, per risolvere dei problemi. Tecnicamente nella letteratura queste cose si chiamano flipped classrooms, classi ribaltate, possiamo chiamarle come ci pare, però diciamo che se gli studenti arrivano già studiati, cosa che in italiano non credo si possa dire, ma ormai l'ho detta, se arrivano in qualche modo preparati, poi possono utilizzare lo spazio d'aula per simulare e quindi alla dimensione della teoria affianchiamo la dimensione della conoscenza pratica. Devo dire che questi MOOC, questi corsi che si chiamano Massive Open Online Courses che stiamo facendo, sono frequentati da tante decine di migliaia di persone, oltre ai nostri studenti, e ci stanno insegnando come gestire delle comunità di persone molto più ampie rispetto alle 10, 20, 30, 100 persone che abbiamo in aula, e ci stanno insegnando come fare a fare un'education che sia anche efficace in assenza del professore. Non so quanto i docenti saranno contenti quando riusciremo a produrre dei corsi grazie alle vostre simulazioni, grazie alle integrazioni architettoniche, o grazie al fatto che sono circondati da ambienti particolarmente belli e stimolanti, cosa che poi Andrea Rurale ci racconterà. È possibile comunque sostituire in parte il docente e renderlo automatico. Devo dire che è una sfida interessante, ma un approccio strutturale alla didattica progetta chiaramente la didattica in aula, ma può integrarla con tutta una serie di cose che stanno fuori e che gli studenti sembrano gradire. È evidente che non occorre andare in aula e riprendere l'aula con una telecamera, ma occorre usare le tecniche filmiche che lo IED ci insegna, la community underground milanese dei film makers, i registi, i grafici, per fare qualche cosa che rispetto al nostro studente, che era questo signore qui, non sembri una cosa posticcia, brutta, ma sia compatibile col suo modo di vedere le cose e col suo modo di pensare. Quindi pensiamo che, questa è l'ultima frase, l'introduzione di modelli di teaching sofisticati abbia bisogno di un'università che dia delle infrastrutture adeguate e il supporto adeguato ai docenti, perché da soli, secondo noi, non lo possono fare. Grazie. 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 Grazie.